musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi è tempo di parlare di leaks siamo come sapete arrivati al completamento del download della patch 7.2 patch che porta con sé un sacco di informazioni vi invito ad andare là in alto a vedere il video che ne parla proprio di tutti gli update ma oggi ragazzi vi faccio vedere nuovi picconi nuove skin nuovi deltaplani nuovi balli e anche nuovi spray siamo ragazzi sempre in collaborazione con gli amici di fortnite italy gruppo telegram che vi invito ad andare a visitare trovate il link in descrizione ovviamente e partiamo subito con l'immagine che c'è alle mie spalle ragazzi la schermata di caricamento della settimana numero 7 ovviamente meravigliosa e mostra il re dei ghiacci seduto sul suo trono contornato appunto dal ghiaccio trono presente nel castello ovviamente ma andiamo avanti ragazzi e vediamo subito la schermata di caricamento numero 8 della settimana relativa che mostra ancora lui ragazzi il re dei ghiacci sopra il suo castello e come vedete ragazzi sappiamo già dove sarà lo standardo segreto della settimana numero 8 se guardiamo proprio qua ragazzi come vedete disegnato sul muro ci sono le coordinate del dello standardo il punto preciso di dove trovarlo veramente meravigliosa questa immagine è di sfondo questa loading screen andiamo avanti ragazzi e siamo sempre qua siamo sempre qua no a che cavolo faccia che ok siamo qua a perché quello lì è lo sfondo a che andiamo a vedere ragazzi anche nel nelle righe di codice i quattro nuovi balli che arriveranno nei prossimi giorni i don't know jazz dance jazz dance wave dance e wheel wind ragazzi sono quattro nuovi balli appena ne saprò di più ovviamente ve li farò vedere non dimenticate di tenere aggiornato il canale mi raccomando attivando la campanella per non perdervi niente ma andiamo nella roba su cosa raga è pronto subito il primo piccone ragazzi davvero molto carino un'alabarda come vedete che ha disegnato comunque dei riferimenti al ghiaccio tanta tanta roba per questo piccone mi piace un sacco non credo che sia reattivo piccone numero 2 un po' diverso ragazzi una specie di piccone potrebbe sembrare una specie di gatto delle nevi a due forche per non lo so sembra per muoversi appunto sulla neve non mi piace particolarmente e andiamo avanti invece con un altro piccone molto simile al rompighiaccio mi piace invece mi piace un sacco è una specie di non lo so sembra un attrezzo che usano i montanari per arrampicarsi sulle pareti rocciose molto carino sicuramente avrà un bel sound non vedo l'ora di vederlo nel game per arrivare a un altro piccone molto molto carino invece questo è figo ragazzi un piccone che ha i colori di quello di omega se ci pensate bene ma ha un effetto molto particolare sembra un effetto di fuoco potrebbe essere ragazzi il contrasto tra il ghiaccio e il fuoco ovviamente stiamo vedendo che abbiamo la fortuna di vederne anche la scia e andiamo avanti con l'ultimo piccone meraviglioso anche questo come vedete la parte alta del piccone riprende un po il copricapo del signore dei ghiacci è molto molto simile potrebbe essere un altro piccone relativo che gli si addice sicuramente in maniera ottimale ma andiamo avanti ragazzi invece pro questo è particolarissimo ragazzi questo è un piccone che non si sa bene quando e come verrà rilasciato perché è presente nei file di gioco ma è ancora in fase di creazione ed è veramente particolarissimo ragazzi un piccone che appena ne saprò di più ne saprete di più anche voi subito ragazzi vediamo invece la prima skin per armi e veicoli molto carina sembra un carbonio nero e blu seguita da un'altra che invece ha dei colori molto più interessanti che vanno dal viola fino all'azzurro davvero con profili argento molto molto belle entrambe le nuove coperture probabilmente saranno acquistabili nello shop passiamo invece ai deltaplani ragazzi bellissimo deltaplano che abbiamo già visto in realtà come forma con due reattori dietro un elicottero o comunque una specie di mezzo volante che può assomigliare un elicottero anche se questo c'ha sei pale l'elicottero ne ha solamente tre comunque carino attenzione al deltaplano con sopra la copertura che abbiamo già visto nel mantello del vichingo se non ricordo male del mantello del magnus e un deltaplano molto particolare come sapete ragazzi questo deltaplano non so se vi risulta ma abbiamo già visto qualcosa di simile in quello della principessa che è uscita la skin la principessa dei ghiacci in poche parole come sospettavamo questo potrebbe essere la controparte malvagia e cattiva ovviamente del deltaplano andiamo avanti ragazzi meraviglioso anche questo un paio di ali di drago che vanno o di vampiro chiamatelo un po come volete che vanno ad avvicinarsi che vanno ad associarsi a tutte le altre coppie di ali che abbiamo come deltaplani ma andiamo avanti ragazzi meraviglioso anche lo scudo a me piacciono particolarmente gli scudi guardate che qualità che meraviglia con in centro una specie di gemma blu che forse potrà essere reattiva e anche la versione femminile come vedete a forma di scudo un po più classica ragazzi rinforzata e comunque sempre meravigliosa andiamo avanti con il backpack di una skin che fra poco vi farò vedere che sarà la controparte maschile della skin quella tutta gialla che non mi viene il nome in questo momento ma sicuramente voi la saprete sicuramente per chiudere ragazzi probabilmente questo deve essere l'ultimo backpack che non mi piace particolarmente ma va ad associarsi o comunque è molto simile al signore dei ghiacci molto molto simile le fattezze no l'ultimo in realtà è questo ragazzi uno scudo un backpack molto simile l'abbiamo visto anche nello spaccatutto se non ricordo male questo è semplicemente una variante un pochettino più chiara ma andiamo subito alle skin ragazzi eccolo qua eccolo qua il diavolo ragazzi che non sappiamo se sia la controparte malvagia di una skin che abbiamo già visto potrebbe essere quella di cui vi avevo parlato dell'arcangelo questo potrebbe essere appunto il diavolo quindi la sua controparte maschile è malvagia proseguiamo con un'altra skin non saprei chiamarla ragazzi perché non so che cosa dirvi molto pulita se notate mi sembra che il logo che ha triangolare sul petto è esattamente quello che c'è nella tempesta di salva al mondo correggetemi se sbaglio andando avanti un'altra skin molto particolare questa deve essere invece la skin associata allo scudo che abbiamo visto poco fa quello simile a quello dello spaccatutto è boh sempre anche questo sembra sempre una specie di soldato cibernetico bossoli sopra la parte sinistra del corpo un visore notturno davanti tipo l'archetipo non lo so andremo a vedere per passare al secondo vichingo del gioco ragazzi cattivissimo molto molto figo a parte le corna muschiate che c'ha sull'alto hanno comunque dei riferimenti sempre al ghiaccio sono veramente molto carine gli va a fare compagnia al magnus seguito ovviamente dalla controparte femminile l'abbiamo dai questa è palesemente la skin che già conosciamo e che abbiamo sbloccato la season 2 season fa se non ricordo male rivista un pochettino rimodificata leggermente comunque sempre carina una parte femminile che ha sicuramente qualcosa da apprezzare e ragazzi arriviamo a questa skin che è molto molto interessante perché è molto interessante perché potrebbe essere ragazzi la skin segreta di questa season le forme sono molto simili davvero non sappiamo se sia così oppure no come sempre epic games ci abitua a farci disprezzare le skin che ci regala perché sono veramente obrobriose forse lo spacca tutto è l'unica che si salva di certo aim non mi piace questo potrebbe essere proprio la skin segreta della season numero 7 e andiamo avanti ragazzi con la regina dei ciufoli non mi ricordo come si chiama ma ve l'avevo già fatta vedere nel video di questa mattina presente sia in save the world che in battle royale penso che l'ultima skin dovrebbe essere proprio lui ragazzi la controparte maschile della skin da tassista in poche parole non mi ricordo come cavolo si chiami e con questa ragazzi direi che le skin sono finite beh ragazzi io spero che questi leaks vi siano piaciuti un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao